deposito demolizione o c'ho una cassa davanti sarebbe bello se il nemesis potesse rompere le casse anche perchè mi sembra strano che non possa per quanto è grosso come è che non l'ho hittata? già il gioco inizia a scammare vedo grazie questo gen è già più del 50% in stato ora il game allontaniamoli dai gen perchè già non mi piace come è iniziato ok buono prima non sei the best qualcuno si è già curato gli zombie rompono il cazzo bravi zombie fate il vostro lavoro un salto due salti niente tre c'è un pallet qui si spero che non si è cambiato l'ossessione comunque prima mi sto pensi di fare il boon per tutti i bag cretino comunque la cosa scam è che hittare con le abilità eccetera non ti cambia l'ossessione gli zombie saranno inutili si accettano scommesse potremmo fare una battle se uno zombie riesce a hittare se lo zombie ferisce qualcuno ecco o infetta anche ho già save ciao dante buonasera zombie mvp quello è corso a 200 all'ora andiamo per lei dai lui l'ossessiona adesso quindi in realtà attenzione lo zombie mi toglie la kill anche quando hittano gli zombie sono contro di te porco due che odio vabbè cosa mi è camminata in faccia no non è mvp questo slenderman il fatto che l'ha hittato mi ha fatto perdere l'hit e quindi non è mvp sono già tier 3 cazzo cioè com'è che non ha rotto il pallet gioco aspetta io ho votato no vai zombie bravo ma perché non procca ora viene il bello porco due sono in cesco l'ossessione sono tiltato dallo zombie raga non potrei neanche capire quando gli hitta porco due per fargli allontanare è una delle cose che non sopporto vai zombie mvp zombie no non serve un cazzo zombie lasciatelo dire è impazzito all'improvviso guarda quando gli zombie hittano ma non devono è una delle cose più scam perché ok che gli da l'infetto ma lo potevo tirare giù quindi non è comodo ciao pipeo un slenderman andiamo a giocare a skyrim mi hanno trovato gli skyrim raga che vorrebbe vedere skyrim meme tutto a posto grazie come stai tu poi comunque devo fare che l'hitta zombie non dai il dash guarda già l'infetto non dovrebbe dare il dash zombie si è redimmato dai lo zombie si è redimmato possiamo dire con efficacia che lo zombie si è redimmato da quello che ha fatto prima dove cazzo è andato sto stronzo è andato a terra ecco dove è andato dipendo uccide tutti gli npc no chiudiamo il game così slaggando a tre hook feels bad man miss out feels bad man allora no se non è un unbreakable è fatta mettere giù dallo zombie no ma cosa fai zombie ti ho pagato per fallire ma scusami scam lo scam è che tu pagaresti uno zombie per fallire uno due con cosa l'hai pagato si si alla michela vabbè dai voleva essere abbracciato dallo zombie so via l'ultimo portare che era in quella zona lì questo fa il 4% si no ho giocato anche dlc balle mi pare in realtà qualcuno quello dei vampiri però poco non tanto easy guarda quanti quanti stanno salendo al cielo io vorrei landing mori quello che avevamo tanto detto tempo fa che ci ho fatto anche un video sopra di quando atterri tu ti fai il mori istantaneamente mica ti hai visto ancora allora